Ah ok Sinko proviamo bene Proviamo bene Lulu Vabbè no Vado top con Darius Lulu, ma che cuore Cosa aprai? Cosa aprai Cinco? Oh allora Alistar, Annie Blitzcrank Lulu Morgana Nami Veigar Può essere considerato un support Soraka, Sona E Zinia Tieni quello, metti quello Cinque, è il telefono a portata di mano? È il telefono a portata di mano Se invaderei contro Rengar Guarda sul gruppo Cosa ti hanno inviato per te Vediamo un po' L'Uno è tutto adesso Lulu feste in piscina agli occhi color ambra Adoro le ragazze con gli occhi color ambra Sono dannatamente sexy e carine E sono rarissime Peccato che non esistono praticamente Esistono, c'è una in compagnie di Una in compagnie di classe No, il colore ambra ci sono È raro da trovare Ma il colore ambra Il colore ambra di già Sia abbastanza facile da Da vedere Cioè Oddio Cos'è? No Silver Ti stupro No Quel cuscino è mio No Silver 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 Se stai guardando questo video Se me lo caricherò Vaffanculo Tu non hai usato a comprarlo No No Cuscino Exynco Cuscino con Ari 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 è in taglia abbastanza Con culo Ho visto una foto Dove essere il cuscino di Ari Con le gambe aperte Bene Spero più che non abbia comprato È solo mio Ari è solo mio Perché c'è un dakimura di 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 No Un dakimura di Soraka Argonne Lasciamo double jungle Vai Iniezione LTS Ho scordato gli item Madonna Stavo già tipo per riportarti Mardè? Mardè? No Io devo perdere la street Mardè? 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 Andiamo dagli ocellini La zia Mardè lo mangio In realtà double jungle si può fare come metodo Però ti farò tankare a Dalme non torni giù in lane morde, lo mangio ah, fai la tecnica, devo dare a comprare tipo una Clotharmore e poi torni in lane no, no, Lullu, no scappa, grazie, grazie, scappa Lullu, dio panettiere ok, sta tancando me, niente grazie, grazie mille no, perché lui è un fornaio, non è un panettiere tu sei in quel vita ma quando è che sei entrato? a me era nella ponte vecchia infatti erano in giro facciando la password ho messo maroni kick, mondiali, fanatico ho messo 0-1 e sono entrato attenzione, hacker quindi esce adesso scripting quindi adesso flash lo esci, no? no, no sta scriptando, sta scriptando, non può uscire oh, cosa è sto scripto? sta scriptando oh, faccio diventare un po' faccio scrittare Xinko oh Xinko, io ti do certe botte che tu fa è preso un assi mi hai stillato per Zod una domanda, non si chiama nessun minuto lo so ma tua madre la ho appena tornato, è Xinko è appena tornato oddio vuoi ci arrenga? mi state giocando in family member oh, ciao in family member in Italia mi piace ma ero bellissimo tempo ho buttato giocandola un pochino con main nooo, i danni i danni quanto è stupido quel cosa da una piedi i danni che l'hai fatto, crappa va bene se faccio killmink e te non c'è, vero? no ma io voglio quella Morgana, non la vedi? è a metà vita Per carretto non posso andare back E' così sexy Esatto Così gratuito Così fia di puttana l'ex 5 Non lo avrai vinto per niente Un finitolo della vita Un play the blue card Si vedi che è, fatti prima il fight Dato che sei contro Jace Eh col fight contro Jace Non potrà mai fare uno contro uno Già non può perché sei Relia Se ti fai il fight manco si può avvicinare Solo un pizzico Eh mi sta, mi sta, mi sta, mi sta, mi sta Dov'è Cata, dov'è Cata C'è stava proprio qua quello A vedere i loro jungler comunque non forse hai troppo i trade ok Sì c'erano almeno 10 minion Che a questo ho detto vuole capare questo Arriva bot Ok io aspetto 10 minuti Madonna, Madonna Doppio flash Bilanciata Doppio flash 3, 5, 4 No, non hai una buona idea Dicono poi Dai ci sono io Vai continuiamoci Dai Continuiamo Porca puttana E sto stondi in Morgana durante quattro d'ora Dio Ecco Veramente Questa Vai Perfetto Perfetto Sì però quel windwall Mamma mia Please Eh windwall l'ho fatto per cercare di Però pensavo di levarmi più metto La ventenza Dio Morgana Oh la play di Cosa Vabbè trafato dove usare un'altra No come si è salvato Alme Sta qua quello sta tipo dentro di luce Eccolo Vai alme Vai alme Vai alme Grandissimo 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 Ragazzi Vedemi qua ad aiutarmi Vedemi qua ad aiutarmi Perfavore Grazie 5 Non è pure te però Che ti fa levare la passione In questo modo No Maggi che ci sono Fermo fermo Non la toccare Non la toccare Non la toccare Scusa non ho capito Ok Ok Sì Voi ho baitato via Rengare Cosa per farvi fare Katarina Perfetto Qua è stata l'ho uccisa di Boder Perfetto Qua è stata l'ho uccisa di Boder Madonna ma Madonna santa ho calcolato quella E Sono scappato via Easy Sono tutto in cooldown Aspetta 3 Aspetta 3 Cos Aspetta 3 secondi Devo sgare Aspetta No aspetta perché sono 3 secondi Non erano 5 Mila Come 5 Mila Minchia trafà Minchia trafà Sì in effetti Mangia quando è durato Quello stun Ho tutti in quattro Mettiamo No drink al blu Ragazzi Ragazzi avete 8 secondi Per ingaggiare su Morgana Fate finte che ci stia solo io Buono 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 Scegli Via ragazzi Katarina Quattro Buono 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 Non buono Buonissimo Non buono Sei gustosissimo Oh scusa Oh Morgana Morgana Minchia Ok Magic Oh Magic Penta Oh no Maggi 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 è il nuovo Bals È il nuovo Bals Incredibile Bals Oh Oh Maggi In quattro lingue diverse Non scrive Quel tornado ragazzi è stato tutto calcolato Non ce l'ho ulti Maggi Wait 7 6 Via ragazzi Via ragazzi Foss Foss Stiamo arrivando pure noi No 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 Via 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 scappate Pronto All'è pronto Devi ultare Oddio Cioè fammi capire Lei ha ultato E' stato lei Non si è stoppato Ma io avevo fatto E ci sei stato scioltato Prima che potesse Attivarsi la ulti C'è Maggi Madonna Scusa 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 Eh Maggi Io me ne ingresso Fossi interno Grande Via 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 Sto a vedere Flash Scusa No Però mi sa Voleva fare Flash Ehm Maggi Almeno Portati Almeno Portati Uff Uff Non muoio 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 Sì 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 Che stai Non ce li ho nel mio armadio Ma che non ce li è nel mio armadio Jasmine Ma non sai che sempre c'è così Non farla piangere Ma non ci sono nel mio armadio di attaccafagni Ma non farla piangere idiota Non ci sono nel mio armadio di attaccafagni Non mi sa che stai piangendo Vai via Brava Adesso la devi via Se ho fatto anche danni Sarri ma che cazzo stai Minchia 7-2 Te ne vai via Non lo trattare così Te ne vai via Solo che c'è un piccola differenza tra la mia cebbio Nel mio cibo di Charlie in questo momento Il mio è schillato Il suo no Parliamone ma No, Yasuo è sfidato, ascolta, non puoi dire un cazzo, è stato depurato uno dei centri più difficili da usare Vai via, vai via, dai fastidio, ok Ti giuro, eh, a me è uno dei migliori più difficili da usare, l'hanno detto Ma chi era quella seconda persona che ha fatto? Così, Xinko, girate che ci sono Dai, guarda lato positivo, Xinko, ci sei girato, però Oh, grazie, guarda lato positivo, dai, guarda lato positivo, però sta parlando troppo molto per delle cavolata che sta facendo Questo tipo qua ma ha molta lina Ciao, ho preso la macchina, grazie Ma quanto è la macchina di movimento? Ragazzi Perché Kog Mew è Kog Mew? No, Kog Mew è perché mi ha influenzato a venerdote Cì, ho stilato una kill Queste meccanics Grazie per l'ultimo, Mokr, 5, molto buone Ciao, vi è una prossima col cazzo che la fa salutare, questa Il tower d'idea Ma cosa Calculo Pensavo che era magic Che diceva una cosa E tra qua Dopo nel video vedete Vedete cosa è successo Mi spiegate come Come Morgane mi ha preso Come Una Q magica delle classiche Morgane main Ma non è main Ma non è main appunto Ha rubato due kill Sto scrittando Ecco il gattino Il gattino Hey Jace Oh Jace Il mio amico Scusa The god Fatemi qualche minion Polimor Oh cata c'è cata Corre Schifo Si devo star lontano abbastanza Per avere il polimo No no raga Ci manca poco Raga aspettate Aspettate L'ulti Di almeno potremmo Gira No 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 Mai Non mi ha Cattano l'ulti Cattano l'ulti L'ha appena recuperata Lo sai che quando No aspetta Vorrei dirmi che anche l'ulti Si recupera Si con la passiva Sette seriii Teo 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 Dove sei Mezi Ahia C'è la Peo Era compita io non avevo spell La ulti ce l'avevo 13 secondi Ahia ahia Che pizze Azz volte Gigi Zing Van Di bella Che gli mask E' giusto difficile Per fare i cosi Come si chiamano Per fare le play screen Cinqo ok si no! no ve lo stilartelo che cattivo si c'è perché stai perdendo tutte le partite perchè stai iniziando a trovare un po' troppo spesso dai per... cioè sono andato completamente a caso su un profilo a caso tutte le partite perse vabbè a parte che in quest'ultima partita abbiamo avuto una sfiga d'altra voce però una volta l'abbiamo tornata vabbè ragazzi ma no! vabbè abbiamo tutte le torri in macchina si può... non si può perdere è che ti è strano adesso eh ti stanno andando tutto trafava via 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 trafava scappa trafai la ulti per giocarli aspetta che hai tutto da un po' più sbagliato fatta che se gli vai se se la gioca bene 20 può fare più vada magic mi s'è preso la corazza per quello... diviso la botraca a me manca solamente grazie no manca la botraca manca la bt e la ie ragazzi ma... avete presente la spell di... di già a scuola che ti scaraventa no? ma ha fatto un critico magico da 800 minchia è davvero scravo come sempre però quello non lo sa usare quindi va bene per niente io faccio una kill e muoio faccio una kill e muoio muoio e faccio una kill e perchè non stai vicino al tuo sappo no te ne vero sei te che ti levi dalle palpebre quando io sto a botta a pusciare e tu vedi e te ne vai muoio fanculo ma lo scogliato l'ho già visto god the god the god the god madonna mi sta arrivando addosso Morgana mi sta arrivando addosso Morgana dove cazzo è la scuola mi sta arrivando addosso Morgana dove cazzo è la scuola 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 quante 10 minuti lo so non siate timidi davanti dite lo che vi ha carato il vostro support dai no io non posso giocare dai ragazzi raga io vado a mangiare ok trafa esce magic ma ragazzi che fa bazzi disc il è non è giù d'arguio è è è è è è è Grazie a tutti.